Roma Ludo Goretz, Stadio Olimpico La Lazio ha perso con il Feyenoord Feyenoord è 1, Lazio 0 Roma Ludo Goretz, Stadio Olimpico La Ludo Goretz, Stadio Olimpico Numero 6 Cris Numero 3 Rage Numero 17 Matias Numero 8 Nemanja Numero 20 Medi Numero 44 Stato Numero 11 Andrea Medi Numero 9 C'è lì Anima Il Capitano Numero 7 Rage Soprattutto 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 Brava Adipodizione Numero 63 Votra Votra Vistoria Votra Vista 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 L'alto Soprattutto L'alto Primero In fortuna Pallato signor Roma, Roma, Roma mia, tu te lo canta, tu sei la grande e grande. Paglio da Roma, vuole questa città, unico grande natore, ed anche al canto accente, è il fatto in alto. Punizione per la Roma, chi tira? Pellegrini. Vediamo bene, dai. Ti metto tutto il settimo. Vediamo, vediamo, dai, 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 Pelle, dai, Pelle. Se c'è una birra, è birra, dai, vai. Dai! No, niente. Che ha fatto, padre? Ha tirato? Ha tirato uno stracetto bagnato. Uno stracetto bagnato. Pallaccio sul gallo. Punizione per la Roma. Vediamo un po', dai. Pur ha morito, ha morito, è vero, padre? Pallaccio, pallaccio, brutto. No, è un po' di fatti. No, no, no. No, no, no. Creazione, ma che ne so. Creazione. Questi sanno a perdere tempo? Sanno a perdere tempo? Perdono tempo? dai e rimetti quindici secondi ha sognato luto correz incredibile si è fatto tutto il campo che schifo non c'è segredo, non c'è segredo non c'è segredo Camara ha uscito pure è uscito anche è uscito Belotti è entrato Zagnolo è entrato Volpato l'altro viene è uscito speriamo bene dai secondo tempo speriamo di fare due gol dai che stiamo attaccando dai 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 forza forza dai questi perdono sempre tempo sempre per terra stanno voglio vincere voglio vincere voglio vincere e cantare per te forza forza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti un bel secondo 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 un bel secondo